Bene, dopo la seconda parte diamo il là. Cominciamo bene, in realtà è dopo la prima parte, diamo il là la seconda parte. Non me ne vorranno gli amici da casa se ogni tanto anche la stanchezza si fa sentire. Comunque, campionati che abbiamo esaurito, adesso con i nostri due superospiti andiamo a parlare di roba che non è prettamente locale. I nostri superospiti sono Mr. Peppino in campo e Donato Lavorante. Buonasera. Allora, Mr., innanzitutto io ti farei una domanda relativa genericamente agli ospiti che abbiamo avuto prima. Prima abbiamo avuto Mr. Torino Salvaggiulo che è allenatore di basket ma allena anche le ragazze. E poi abbiamo avuto una giocatrice di calcio a 5, femminile peraltro una bomba. Il tuo rapporto con l'universo sportivo femminile? Ti è mai venuto il pallino di provare ad allenare una squadra femminile? No, non ho mai voluto allenare una squadra femminile. Perché sono completamente cose diverse. Una cosa è allenare squadre maschili, una altra cosa è allenare squadre femminili. Ci si lavora in un modo totalmente diverso. Ci sono delle situazioni che con le donne, anche se la maggior parte di queste donne si sentono più uomini che donne, lo dobbiamo pur dire, ma non è la stessa cosa lavorare. Posso assicurarti che le ragazze della Soccer Altamura sono tutte estremamente femminili? Ma io non le conosco, ma quelle ragazze che giocavano a calcio, che ho conosciuto, erano più uomini che donne, almeno dai loro modi, dai loro metodi, da come si comportavano. E si sentivano maschi, tutto sommato. Poi ci saranno pure quelle che sono femmine a tutti gli effetti. Ma io non voglio entrare in questa, non critica, in questo pettegolezio, tutto sommato. Sì, sì, se no. Non mi riguarda neanche, perché domani qualcuno può dire, ma come ti permetti, noi così… No, io non sto generalizzando. Ho detto semplicemente che per me ci sono delle situazioni in questo mondo. Molte volte per allenare squadre femminili non è necessaria tanto una competenza tecnica da parte dell'allenatore, quanto più una conoscenza a livello psicologico, dinamico… La competenza tecnica per come viaggia il calcio adesso è tutta un'opzione. perché anche a carattere maschile, la competenza tecnica in molte circostanze non si vede, forse non c'è, c'è, boh, non lo sappiamo. Allenatori che vanno, vengono. Perché un allenatore viene cacciato? Non si sa, ci sono tanti punti interrogativi. Peraltro l'ultimo allenatore mandato via in Serie A, credo sia notizia di ieri, è l'allenatore dell'Udinese. Io per esempio ritorno sempre a dire su Debord che per me la società ha fatto una grandissima fesseria per andare via quell'allenatore. Poi ognuno si prende le proprie responsabilità, la società è la loro, loro sono i presidenti, loro hanno deciso di prenderlo, loro hanno deciso di mandarlo via senza un motivo valido, perché io ritengo che un motivo valido, perlomeno su quell'allenatore non c'è, perché un allenatore si prende per un programma, non si prende quando devi costruire un palazzo, hai un programma soprattutto da parte dell'allenatore cosa ti può dare, devi avere le idee chiare perché prendi quello, quell'allenatore non prendi quell'altro e quindi quando arriva l'allenatore che dice io gioco così, voglio quel giocatore che deve essere rapido sulla fascia, voglio quel giocatore che deve giocare a centrocampo che deve essere bravo tecnicamente e deve avere una buona visione di gioco, deve avere quest'altra caratteristica, quell'altro che gioca a sinistra. il portiere deve sapere uscire con i piedi e tu vai a fare una squadra che al numero ci metti la competenza e quello significa costruire una squadra di calcio, dal numero 1 fino al numero 11, poi ognuno può dire la sua. Il mister Dacasa ha una domanda per lì, in una scala da 0 a 100, quale sarebbe la sua competenza tecnica nell'allenare una squadra femminile? Posso dire il 100%, non mi tiro indietro ad allenare una squadra femminile se devo per forza allenare una squadra femminile, non ho certamente paura, ma può darsi pure che nella squadra femminile io che ci faccio. Vabbè dipende dall'esperienza che si ambita con i ragazzi e con le ragazze. E' capitato pur di allenare la squadra femminile, ma io non ho voluto allenare squadra femminile, punto. Quindi non è capitata, è capitata la proposta, però è rifiutata. Nonato, tu che ne pensi di questo calcio in russa? Mentre mister in campo parlava, facevo mente locale la prima volta che ho visto delle donne giocare a calcio e mi sono ricordato che la prima volta è stata proprio una squadra di Bari, tra cui giocava una ragazza di Altamura, Margherita Casiello, che poi si sposa con la buonanime di Luigi Striccoli, terzino destro, mi ricordo che rimase sbalordito, anche perché fu la prima volta che vedi delle ragazze nel Cagnazzi, perché in quegli anni quando noi giocavamo a Cagnazzi, nella Fosse del Leone, le donne non entravano proprio a vedere solo uomini sugli spalti, quindi la prima volta che ho visto una squadra femminile di calcio fu in quegli anni con la Casiello, terzino destro e diceva ammazza, perché era un calcio molto massimo. Era ancora all'inizio il calcio femminile, invece adesso è diventato anche un po' cattivo, si sono evolute anche le donne che giocano a calcio, mentre allora iniziavano a giocare a calcio in età abbastanza grandi tutto sommato, invece oggi molte ragazze iniziano a giocare anche da piccole. Ci sono scuole di calcio che hanno proprio il settore femminile, anche l'oltre. Posciamo cadere, almeno per il momento, salvo che non arrivino altre domande da casa, l'argomento femminile, facciamo un passo indietro di qualche giorno. Ma non è la stessa cosa comunque, perché non possono mai avere l'aspetto fisico del maschio e delle ragazze, tutto il bene che gli voglio, ma se un uomo ha fibre bianche le donne non è che possono essere rapidi come gli uomini, sono sempre più… Beh, in effetti c'è molto di vero, non è esattamente vero che sotto il profilo scusitamente fisico uomini e donne abbiano le stesse potenzialità, anche se analizzando i dati dell'atletica leggera i valori si livellano ed è una sorpresa per alcuni versi. E quindi vogliamo parlare di sport e non soltanto… Sì, tendono a livellarsi, soprattutto negli sport di resistenza. Esempio, in proporzione il record sui 100 metri ha uno scarto maggiore rispetto a chi ha il record sulla maratura. Cioè, il campione dei 100 metri attuali chi è? Il campione dei 100 metri attuali è l'arciere. Ah, com'è che si chiama? È l'arciere. Ma ci sono delle donne che riescono a sanificare i muscoli come gli uomini? Sì, però, Peppino, c'è proprio un problema di struttura fisica. Ma sono casi, non è omogenea la cosa per tutte le donne, sono casi, sono casi sporadici. Bisogna prendere atto comunque che la natura fisicamente ha dato delle predisposizioni diverse. Questo non vuol dire… È la natura che si è uscito pure dal minotauro. Eh beh, però, comunque, questo vostro dibattito mi piace perché comunque fa pensare, e mi stavo chiedendo, ma a prescindere dalla struttura, dalla fisicità, il calcio, il calcio come azioni, come dinamiche, è femminile o è maschile? Perché ci sono delle azioni che probabilmente sono molto femminile, danno molto, ecco ciò che Pasolini diceva, è poesia. Il calcio sudamericano è poesia, il calcio europeo è prosa. Tu vuoi vedere che il calcio europeo è maschile, il calcio sudamericano è femminile nel senso che è molto creativo. È più leggero, però, il film è vero. Sì, ma attenzione, per essere femminile il calcio sudamericano non è molto tecnico per una donna. Mister, scusa, allora facciamo così. Però mister, io ho visto donne, donne brasiliane, fare cose impensabili con il pallone. Non seguo il calcio, diciamo, purtroppo in televisione, però mi sto chiedendo, se dobbiamo battere una punizione dal limite e dobbiamo tirare all'incrocio, il pallone deve andare all'incrocio. Che lo batte un uomo o una donna, se sanno colpire quel pallone, il pallone all'incrocio agì. Certo. Giusto. Devi essere capace, competente. Quindi non c'è differenza tra gamba femminile e maschile. Cioè, il pallone non è un quadrato, è una sfera. Bravo, bravo. E quindi basta allenarsi. Questa sera non ci manca niente, abbiamo fatto fisiologia, abbiamo fatto anche il geometrio. Noi parliamo di una sfera, non parliamo di una cosa tonda. E quindi il calcio può essere giocato sia da uomini che da donne. Può essere giocato, ma noi parliamo adesso, scusate, che può essere giocato. Questa è un'altra domanda. Ma è giusto che viene giocato da uomini e da donna. Ma il problema, noi parliamo di qualità. E' la qualità che non ci può stare nelle donne come la stessa qualità che magari ci si trova con gli uomini. Non lo so. Come non lo sai? Non lo so, io mi chiedevo. No, io non lo penso. Mister, scusate. Probabilmente se facciamo il paragone calcio femminile e calcio maschile, allora notiamo una dimensione differenza. Possiamo migliorare le donne nella tecnica, specie nella tecnica individuale, non nella tecnica innata, perché sono due cose ben diverse, ma tutto sommato, anzi le donne possono essere anche più intelligenti a capire certe determinate cose, ma sotto l'aspetto fisico le donne sono inferiori, punto. Perché le donne non sono rapide come... Sono diverse, non inferiore. Prego? Diverse. Diverse, non inferiori. Sì, sono inferiori, sono prospettative. E sono diverse. Diferente della muscolatura. Comunque, la... No, dal punto di vista della prestazione pura, sì. Ma per quanto riguarda invece le regole, penso che siano uguali. Allora, se io devo usare il dribbling per superare l'avversario, lo devo puntare, lo devo sbilanciare e... E andarmene col pallone. Ma il dribbling, per esempio... Che sia maschio o che sia donno, questo ostacolo, il dribbling, il dribbling, quanto bisogna dribblare... Certo, ma mister, il dribbling, comunque l'ostacolo, che sia maschile o femminile, io stesso, perché comunque devo sbilanciare questo ostacolo, che sia maschile o femminile... E devi essere brava a saperlo fare. E quindi il difensore mi può frecare tempo, sia che sia maschio che sia donno. Ma la donna, per esempio, può essere più brava a mettere, diciamo, in mezzo l'avversario e non tanto a dribblare, perché è più intelligente dell'uomo. È più facile lavorare con le donne sulla tecnica tattica. Ci sono donne più intelligenti di alcuni uomini. No, sono anche più agili degli uomini, comunque. Ma vabbè... Quindi seguire certezze... E' elastica, elastica, anche agili. Scusate, fino a provo contraria, il calcio maschile non ha, diciamo, non ha una concorrenza da parte di quello femminile. Stiamo su due categorie completamente diverse. Per l'importanza che gli viene dato. Praticamente una squadra, diciamo, di eccellenza batte una squadra di serie A femminile. Anche una delle migliori. Beh, no, io penso che anche una squadra di terza categoria batta una squadra campione di terza femminile. E allora che mi stai chiedendo? Abbi pazienza. Viceversa, quando andiamo all'estero e troviamo paesi che a livello di calcio femminile sono molto più avanzati rispetto a noi, mi riferisco agli stessi Stati Uniti d'America, alla Germania, alla Svezia. Ma io non sono proprio d'accordo con quello che tu hai detto. E una squadra di terza categoria batte una grossa squadra di serie A femminile. Italiana. Assolutamente no. Perché se una squadra femminile è preparata bene, forse non basta neanche un'eccellenza. Perché se quell'eccellenza non è preparata bene, non vince con la squadra femminile. Dobbiamo salire un po' più di livello. Io parlo di una terza categoria pugliese. No, no, no. Andiamo in alcuni posti. La terza categoria pugliese può essere brava a bere birra in un locale. Tra il mezzo è peggio. Non conosco le terze categorie. O giocare a calcio balilla. Luigi, io direi di lasciare da parte… C'è una domanda. C'è una domanda per il mister. Che ne pensa di questo inizio di stagione della Juve? La Juve non è una squadra che si scopre oggi. Ormai sono sei anni che la Juve… Diciamo la Juve che ha creato Conte, la Juve che poi è riuscito a continuare il lavoro di Conte. Allegri… Allegri… Aveva molti punti di distacco dalla prima in classifica, ma adesso non voglio fare mente locale ricordarvi quanti punti… Ma c'erano… 9 o 10… Ma c'erano molti punti di distacco… Dalla prima alla seconda… No, dalla prima alla Juve… Che stava a metà classifica circa… 9 punti… Quando se non sbaglio l'Inter e la Roma avevano 20 punti, la Juve ne aveva 10… E recuperò 9 punti… Sì, 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 e gli lasciò 30 punti dietro all'Inter… Dico bene? No, credo meno… Vabbè… Comunque… Potevano essere pure qualcosa in più se la Dea bendata non gli toglieva la benda a quella squadra di rifatti… A me sta ce l'ho sempre con Mancini… No, non è che io ce l'ho con Mancini… Ce l'ho con il calcio… Chi lo pratica che non lo fa vedere… E quindi se non fai vedere il calcio e lo pratichi sei un falso… Tutto sommato… Perché il calcio se uno lo pratica deve saper dare del suo… Se non dai del suo, due sole cose… O sei falso, tu è falso chi ti ha messo in quel posto… Ma il pallone non mente mai… Certo, ma poi alla fine tutti i nodi arrivano al pettine… E quando poi arriva il nodo al pettine dici ma io ho sbagliato… E purtroppo il calcio è fatto sempre così… Perché gli errori si vedono sempre dopo, non si vedono prima… Ma quando c'è competenza, chi ha competenze gli errori non li fa proprio… Io pensavo che i nodi al pettine arrivano solo a voi perché… Mi sembra abbastanza evidente… Il pettine lo puoi mai usare da altre parti… Sicuramente è un nodino… Difficile… Hai nodi, doppie ponte, è abolito tutto… Questo spirito critico… Comunque Mancini perché? Era un buon calciatore… Ma un ottimo calciatore, non un buon calciatore… Come allenatore invece? Come allenatore… Io non… Allora… A prescindere da tutto… Mancini sicuramente ha giocato a certi livelli… È un ex calciatore… Ed è forse anche bravo… A capire di calcio… È forse molto bravo a livello manageriale… A individuare i giocatori bravi… Vi discorrendo… Ma non si è visto far giocare una squadra… Punto… Mi stai facendo ricordare l'ultima volta che… Che poi mi sono allontanato dal calcio… Simoni che allena l'Inter… Grandissimi risultati… Viene cacciato… Che storia… Là c'era un problema di ritornamento… Una diecina di anni fa… Me lo ricordo… Terribile… Un grande allenatore… Grandi risultati… Allora Simoni… Simoni… Allora ci fu lo scandalo del famoso rigore andato a Ronaldo in quegli anni… Sì… Ma lui fu licenziato l'anno dopo… Fu licenziato l'anno dopo… Fu licenziato… E c'era un motivo valido perché fu licenziato… Perché se non sbaglio arrivava un altro grande allenatore… All'Inter se ne dovevano disfarle… Esattamente… Ecco… Questo grandissimo allenatore… Che poi non fece niente… E perché… Lippi… Perché il problema dell'Inter non consistiva allora… Diciamo… Nell'allenatore… Anche se già allora… C'erano dei bravissimi allenatori d'Italia… Però ci si andava sul nome… Nella società Juve purtroppo… Gli allenatori… Quando vigeva con gli occhi ben aperti lo stile Juve… Che era con Giovanni Agnelli… L'allenatore il venerdì sera doveva portare la relazione in società… Che doveva andare Giovanni Agnelli… E doveva leggere… Tutto il lavoro settimanale fatto dall'allenatore insieme alla squadra… Quindi l'allenatore era un… Ti vedo ferrato sull'aneddotica… L'allenatore nello stile Juve era un dipendente come i calciatori… Lui doveva solo allenare… Non doveva sbilanciarsi più di tanto… E doveva consegnare la formazione alla società… E il venerdì sera… Massimo il sabato mattina… Era lo stile Juve non poteva sgarrare… Quindi… Ciò che si produceva… Che è la stessa cosa il Barcellona… Di oggi… Mentre alla Juve ce n'era uno… A Barcellona ce ne sono dieci… Che sono i professori… Hanno uno stile… Hanno un metodo… E gli allenatori dai piccoli… Dai bambini… Fino al Barcellona che gioca della Serie A spagnola… Si devono adeguare al sistema della società… E' un metodo imposto… Quindi le società che non hanno queste… Queste programmazioni… Devono prendere gli allenatori che sono bravi a… Saper portare avanti un certo tipo di discorso… Non è possibile che oggi ancora in Italia… Ci sono società che cercano l'allenatore 12… L'allenatore con il nome… Cercano sempre il nome… Per esempio Bari non potrà mai fare delle grosse cose… Perché loro devono prendere l'allenatore che è portato alla piazza… Allora dissi a uno che faceva parte della società… Ma perché non prendete un allenatore… Bravo, bravo, bravo emergente… Cercatelo… Probabilmente sarà la persona che vi potrà portare… Non solo in Serie A… Ma forse… A livello europeo… Dici… Ma Bari non ti puoi presentare con un allenatore che… Non ha nome… E allora voi dovete stare sempre in Serie C… E' una piazza problematica… Eh sì… Ma devono stare sempre in C… Perché… Perché se tu… Tu dirigente… Presidente… O chi che sia… Non hai quello spirito… E… E diciamo… Quel carattere di importi… Non farai mai fortuna nel calcio… Nel calcio ha bisogno anche… Di gente che deve capire… Deve essere forte… Anche nelle scelte… Ma deve essere anche sicuro… Mister… Come vedrebbe Totti alla Juventus… Totti alla Juve… Eh ma c'è anche un'altra domanda… Ma probabilmente… E soprattutto… Secondo lì… Lo stipendio dei giocatori sono esagerati… Ma torniamo sempre alla… E retorica… Parlare di nuovo di stipendi dei calciatori… Io dico da cosa… Chi si lamenta dello stipendio dei calciatori… Si deve prima lamentare degli stipendi dei politici… Perché io mi lamento degli stipendi dei politici… Non degli stipendi dei calciatori… Mister ti prego non entriamo in un campo minato… Che siamo in… No no no… Assolutamente no… Io non entro nel campo minato… Ma dico… Io… Se… Ho… Un centesimo… Posso decidere io dove dare questo centesimo? Io lo voglio dare al giocatore perché mi è simpatico… Non ho capito perché no… Dove sta scritto… Sei fesso tu che vai a giocare… Al… 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 Diciamo al totocalcio… Vai a fare le scommesse… Vai a portare soldi… Poi tipo… Alle società… Le società hanno soldi… Purtroppo una società deve anche guardarsi il mercato… Per guardarsi il mercato… È il mercato che poi decide se il giocatore deve prendere di meno e di più… È la legge del mercato… Non ci si può fare niente… Se vuoi quel calciatore che ha un valore… Lo devi pagare… C'è niente da fare… Liberismo applicato al calcio… Quindi tu sei contro il Salary Cup… No… Non è che… Guarda… Ma non è possibile questa cosa… Perché la moneta italiana non può essere la stessa moneta della sterlina inglese… Quindi parliamo di altro… Perché non è possibile fare un livello su quello che devono prendere i calciatori… Non è possibile… Perché noi abbiamo un mercato… In Inghilterra hanno un altro mercato… Ma c'è la UEFA che in Champions League ci si gioca… E quindi andiamo a pareggiare… Pareggiamo come mercato… Perché se vuoi battere la squadra inglese… Devi avere i calciatori più forti… Perché a volte… Il calciatore è allenatore soprattutto… Perché se poi in Champions League non hai l'allenatore… Puoi avere tutti i giocatori più bravi del mondo… Ma non vici niente… Ma non solamente il… Però le grandi squadre inglesi hanno tutti allenatori stranieri… Sì… Cosa significa questo? Significa che poi alla fine… Era questa domanda che ti volevo fare… È automatico che un grande allenatore debba essere stato un grande calciatore? Assolutamente no… Sono completamente diverse le cose… Cioè un calciatore è un calciatore… L'allenatore è un'altra cosa… Cioè chi insegna calcio… Cioè non è detto che il fantino deve aver fatto il cavallo tutto sommato… Speriamo di no… Mi hai fatto pensare direttore… Signor Mister… Mi avete fatto pensare… A uno che non veniva fuori da dentro l'ambiente calcistico… E che ha detto delle cose intelligentissime… Julio Velasco… Julio Velasco… Quando ha parlato di calcio… Ha parlato da competente… Infatti all'intero ha durato meno di un anno… Vabbè… Ma le società sono ridicole… Le società che… Lo ripetiamo… Che cacciano gli allenatori sono ridicole… Perché una società deve mettersi in gioco e deve dare fiducia… Un allenatore può sperimentare il suo calcio… In un tempo che va al minimo di tre anni… Perché non è… Ma i tifosi che devono stare tre anni a sperimentare chi glielo spiega… No, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento… I tifosi devono masticare calcio… Innanzitutto l'allenatore deve essere preparato culturalmente… Cultura generale o cultura calcistica… No, cultura calcistica… Ma anche cultura generale… Perché è importante che al giocatore ci si insegna soprattutto l'educazione… Perché se non c'è l'educazione nel calcio, non si è uomini nel calcio… Non vai da nessuna parte… Cioè nel calcio soprattutto devi avere i comportamenti… Se non hai i comportamenti… Se non ci si riesce a… Il bello te lo ho diretto… No, non devi venire più in diretto… Scusatemi… Ma sono scordato da studiare… Ma sono scordato da studiare… Vabbè, sei perdonato… Non ti preoccupare… Quindi dicevamo… Dicevamo che l'allenatore deve avere una cultura… Perché deve essere in grado di insegnare come minimo l'educazione ai suoi giocatori… Ma poi è tutto in salita, tutto il resto… Eh sì… La tecnica calcistica, collettiva, individuale, psicologia calcistica, didattica, dialettica… Insomma… Andiamo su almeno… Almeno… Dove un allenatore bravo deve essere proprio preparato su tutto e in tutto… Aveva ragione il buon Lotito che voleva un calcio moralizzato e didascalico… Comunque Valcareggi e signor Mester come allenatore non mi è mai piaciuto… Perché… Parliamo di quello che ci spetta… Sì… Far giocare il primo tempo Mazzola… Sì… Far giocare il primo tempo Mazzola… Che aveva uno scatto… Sì… Molto sbisciante… Fumile… Sì… Per poi farlo rientrare… Nel secondo tempo un Rivera che aveva una geometria… Sì… Significava ammazzare tutti i portatori d'acqua… Sì… Scusami ti posso fare… Quindi… Valcareggi non capisciai proprio… Vabbè… Ho capito… Io sono del parere opposto… La buonanima… Pace all'anima sua… No no… Sono del parere opposto… Valcareggi… Per me… Era… Un buon allenatore… Perché… Mentre Rivera era… Quel giocatore… Che… Aveva… La capacità… Di dosare bene la palla… Di fare un allancio di 30-40 metri… Certo… E di darti la palla sui piedi… Era un giocatore… Di grandi… Di grandi geometri… Aveva una grandissima intelligenza… Di… Un'intelligenza tattica… Certo… Rivela… Sapeva quando doveva dare palla al compagno smarcato… Mazzola era l'opposto… Mazzola era un grande calciatore tecnico… Certo… Che i due calciatori… Non avevano… Nessun adote… Che si poteva euguagliare… Assolutamente… Potevano giocare insieme… Benissimo… Potevano giocare insieme… Con i due mediani forti… Scusami… Ma non sacrificare la squadra… Scusami… Donato… Non ho finito… Allora… Il problema era un altro… Perché? Perché… La nazionale di Valcareggi… Se tu ben ricordi… Giocava con due punte… Uno si chiamava Bonissera… L'altro si chiamava Gigi Riva… Ecco… Come… Tornante… Perché allora… Dominghini… Giocava a Dominghini… E aveva le due… Le due mezze ali… Con il mediano… Che era… Che era Bertini… D'accordo… E desisti… Desisti… Era la mezzana… Ecco… Adesso… Tu mi dici… Mazzola… Dove lo faccio giocare… Allora… Mazzola… Io devo togliere Dominghini… E devo far giocare… Mazzola… Come tornante… Non ci azzeccava niente… Non ci azzeccava niente… Far giocare… La… La staffetta… Rivera… Mazzola… Quindi… Mazzola… Poteva giocare… Benissimo… Se magari faceva il tornante… O il trequartino… Visto… Che allora… Non si usava a giocare… Con la trequarti… Quindi di che cosa stiamo parlando… Lasciamo la domanda… Siamo in chiusura… Siccome da casa c'è una domanda… Io proporrei un giochino… Veloce… Dall'anni 90 ad oggi… Gli undici giocatori più forti secondo lì… Allora… Io proporrei questo giochino… Però voglio risposte telegrafiche… Ma fammi capire una cosa… Da casa chiedono i giocatori più forti italiani… O mondiali… O… In generale… Non è specificato… In generale… Ma devo fare undici per forza… Vi aiuto io… A te li chiedono gli ultimi vent'anni… A Donato del periodo precedente… Beh fare una formazione così… Occhi e croce… Beh… Io posso dire… Un giocatore più forte… Formazione… Il giocatore più forte di tutti… Partiamo dal portiere… Portiere… Buffon… Buffon… Beh insomma… Tu… Donato… Portiere… Dico… Buffon… No… Prima di vent'anni fa insomma… Ah… Prima di vent'anni fa… Dato che ha detto Buffon… C'era un altro Buffon… Cudicini… 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 Carlo Cudicini… Cudicini… No… Allora parliamo… Scusate… Tu rispondi per gli ultimi vent'anni… Ah… Ho capito… Sì… Poi… Mettiamo un centrale difensivo… Ma un centrale difensivo… Dopo Cirea… Baresi… Un libero… Eh… Morì… Cirea… 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 Un libero… A fianco a Baresi… Chi mettiamo? Ma a fianco a… A fianco a Baresi… Aspetta però… Posso mettere anche quelli che hanno giocato con me… Cirea De Lucia… De Lucia… De Lucia Di Martello… Un grande libero… Di Marzio… Te lo ricordi? Gigi Di Marzio… Ma no… Più che libero… Scusami… Pinuzio… Era più mediano… Pinuzio De Lucia… Sì ma quando… Bravo… Nasce mediano… Ma quando gioca da libero… Era eccezionale… Ma a me piaceva quel ragazzo… Piaceva quel ragazzo… Non sbagliava mai un passaggio… Bravo… Andiamo avanti… Dai… No… A te chiederò lo stopper… A lui l'altro centrale difensivo… L'altro centrale difensivo… Eh beh… Mettiamo la coppia… Eh beh sì… Con Baresi… Che ci poteva stare… Baresi… Forse è un buon stopper… Parliamo di stopper… Perché se parliamo di centrali… Io ci mettevo… Io ci mettevo… Sì… Terzino… Terzino destro… Laterale destro… Difensivo… Laterale destro… Il brasiliano… Io no… Dove ne ho io… Carlo Salberto… E' Arruano… Di Bitondo… Arruano… Mai un fallo… Il brasiliano… Maicon… Mister… Maicon… Carlo Salberto… Carlo Salberto… Laterali sinistri… Sinistro Maldini dai… Sì… Maldini… Ma vent'anni fa… No c'era… Maldini c'era anche prima di vent'anni fa… No un altro terzino sinistro in gamba… Beh… Te lo suggerisco… Ero del Milan però… Facchetti… A me piaceva assai… Perché non faceva mai farlo… A me piacciono i difensori che non facevano farlo… Che ti garantivano… Come mediano… Mediano… Sì… A me piace Oriali… Sotto tutti i punti di vista… Oriali… Anche se parliamo… Prima di vent'anni… Ma un mediano più forte di Oriali… In Italia non l'abbiamo mai avuto… Ardino che giocava con me… Ardino… Peppino… Ma era un interno di centrocampo… Sì… No mediano… No no era mediano… Peppino favoloso… Mai fatto un fallo… Peppino Ardino è lo zio del Giuseppe Ardino Bomber della Fortis… Bravo… Sì… Dunque… Quattro… Vediamo l'interno di centrocampo… Quello che una volta giocava con Votto… Come interni… Uno… Diciamo… Più forte di tutti… Eh… A destra era… Io ce l'ho… A destra… No no… A Berti… Berti… Un… Dopo l'ho detti il biondo… Re Cecconi… La Buonanimo Camorì della Lazio… E… Uno del Milan forte… Ma Re Cecconi era più centrale… Giocava con Votto… No… E va bene… Lui si riferisce ad un'epoca in cui i ruoli erano un po' diversi… Sì… E… L'altro Benetti… Benetti… Wow… Spaccagando… Spaccagando… Sì… La mezzala sinistra… Mezzala sinistra… Mezzala sinistra… Uno dei più forti è Conte… Bruno Conte… Mezzala sinistra… Dieci… Io me lo ricordo… No… Tornante… Tornante Conte… Ah… Antonio Conte… Se non smettevo c'hai… Come Antonio Conte… Come Antonio Conte… Conte mi rassemigliava un po' Come Conte… Come Antonio… Allora… Numero di… Io ti ho chiesto l'interno sinistro… Interno sinistro… Uno Conte ero una alla destra… Scusami… L'interno sinistro… Io già te l'ho dato prima… No… Abbiamo detto l'interno destra… Eh? Berti ero l'interno destra… Ah no… A sinistra ho detto Tardelli… Scusami… Non ci siamo… Rivela… Rivela… Tornante o alla destra… L'hai detto Bruno Conte… Anche se siamo più di vent'anni fa… Campione nel mondo nell'82… E davanti ci mettiamo Baggio… Destra… 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 Sette… No vabbè Bruno Conte ha smesso di giocare a calcio… Davide Beckham… L'ultima… Ha smesso di giocare a calcio… Giocava 10 anni fa… Negli anni novanta eh… Attenzione… Ah di… Allora Garrincia… Ah Garrincia… Vabbè Garrincia… Alla sinistra… E… Ci mettiamo Maradona… Bagine Maradona… Bagine Maradona… Lui va sul sicuro… Bagine Maradona… Gigi Riva… Gigi Riva… Gigi Riva… Gigi Riva… Gigi Riva… Centre Venti… Centre Avanti… Centre Venti… da lui imparo a giocare a zona sono i giocatori che sicuramente no no tosto centrava nella fantasia degli anni 70 centra campione del mondo due volte negli anni settanta mi fanno cenno dalla regia che per questa sera ma per lei non hai messo in formazione ma va bene ma non ho messo in formazione di vera ma piace di due posti uno con noi con per lei vincendo tra fattori un marco per me sono i tre giocatori più forti del mondo di tutti i tempi c'era anche una domanda su totti ma non te la chiedo perché altrimenti no no me l'hai già ma fra dici anni sicuramente potrà fare il dirigente potrà fare qualcosa in più vedere ma c'è una pazzia ad alta mura c'è c'è un claustro che si chiama francesco totti io tifo per claustro francesco totti ma è improponibile anche perché totti ha avuto richiesto da da parte del real madrid se non sbaglio cinque sei anni fa ma sempre real madrid l'ho cercato più di riuscire a cercato l'ha cercato sempre di milan non ha mai voluto lasciare roma calcistica che poi deve dire grazie alla nazionale sia un grande titolo ed è quello di aver vinto i mondiali del resto del resto non ha vinto nulla va bene siamo in chiusura meno bruno conta a riuscire a vincere uno scudetto alla roma anche totti ha vinto lo squadro allora ringraziamo mister peppino in campo è donato lavorante grazie grazie di nuovo grazie anche per il giochino sulle formazioni grazie a voi che avete scelto l'informazione sportiva in questo caso di teleappolo l'appuntamento e per lo sport sulle nostre frequenze oltre che la replica di domani alle 14 e 30 lunedì alle 21 con il tg sport nel frattempo tunnel pronti a giocare torna a venerdì prossimo alle 21 30 buona settimana a tutti ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.